709, buongiorno a tutte e buongiorno a tutti, Good Morning Milano inizia in questo istante qui in diretta su Crystal Radio Milano Buongiorno, come state? Come va? Come va? Come va? Come va? Cosa state facendo? Cosa avete intenzione di fare oggi? Cosa avete fatto nei giorni scorsi? Cosa farete nei prossimi giorni? Sì, sono un ficcanaso, voglio sapere tutto questo e lo posso sapere al 331-78-53555 Il nostro numero di Whatsapp che appunto è prontissimo qui davanti a me a raccogliere tutto quello che volete condividere con noi Insomma, anzi, grazie come sempre di farci entrare nella vostra routine mattutina Grazie a coloro che in questo momento si sono appena svegliati e a quegli altri invece che sono già in giro, magari nel traffico Ci sono anche quelli che stanno tornando dal turno di notte, perché ci sono anche quelli Ebbene, ci sono quelli che magari stanno finendo di lavorare in questo momento Quelli che oggi magari invece sono a casa di riposo, ma non ce la fanno comunque a dormire di più Perché ormai la sveglia biologica li tira giù dal letto a quest'ora perché sono abituati ad andare a lavorare Quindi magari si sono inventati qualcosa da fare O quelli che magari, e mi spiace, nel senso, c'è questa persona che hanno questi problemi E a me spiace che ci seguino, nel senso, sono contento che seguono noi perché cerchiamo di aiutarli Quelli che vanno a correre la mattina, ad esempio Cioè, quelli sono quelli con i problemi grossi, ad esempio Cioè, quelli lì sono quelli che vanno aiutati, quelli che bisogna proprio fare una task force Per prendere e dire, ma che problemi hai la mattina? No, invece, anzi, ci sono quelli che appunto stanno facendo ginnastica Quelli che fanno meditazione e non ci ascoltano Perché no, stanno meditando, non è che possono ascoltarci Ma magari possono riascoltarci dopo Goodmorning.milano.it Anche lì puoi trovare tutto quello che facciamo qua Tutte le nostre interviste, tutti i nostri pezzettini Tutte le nostre belle rubrichette, come dice qualcuno che conosco Che insomma, potete riascoltare dopo Quindi potete anche meditare Meditate, meditate, gente Vi siete mai accotti che Freddie Mercury Parla in milanese in questa canzone a un certo punto Sulla chiusura dice Shura! Dice così, dice C'era qualcuno che passa a me Shura! Venchi, Shura! Dice così, dice I Queen con Another One Bite Dust Alle 7.14 minuti Crystal Radio, Goodmorning Milano Non avevo capito tutto questo entusiasmo Che avessi questa mattina nel partire Sono sempre comunque le 7 del mattino E' mercoledì, la settimana ancora lunga E invece no, perché è arrivato appunto Alberto Con il suo Whatsapp a farmi ricollare una cosa fondamentale Leggo il Whatsapp di Alberto che è arrivato alla 33178 53555 Un saluto e un buongiorno al direttore Fabio Alla sua redazione, a tutti gli ascoltatori di Crystal Radio Sento già profumo di weekend lungo E' vero, perché oggi è mercoledì Ma è come se fosse giovedì Perché domani è giovedì ma è come se fosse venerdì Non so se avete capito Cioè, è facile no? Cioè, oggi è un mercoledì Che profuma di giovedì Quindi oggi è giornata collinetta del mercoledì O è già giove? Cioè, molto probabilmente Sotto pelle Sentiamo che è già finita la settimana praticamente E appunto, venerdì poi non andremo in onda in quanto festa Ma domani invece siamo qui Anche se è Halloween, giustamente Perché non è che adesso dovremo fare tutte le feste di sto mondo Però magari domani Anzi, adesso lo dico a Beatrice che non lo sa Così in diretta mi vengo di mettere le idee E lo dico in diretta a Beatrice Magari domani, beh, vieni qua e ci racconti Cosa farete voi genzetta per Halloween domani sera Cioè, trova anche due o tre appuntamenti interessanti da darci Così almeno andiamo lì poi domani sera, va bene Tutti insieme alla genzetta a festeggiare l'Halloween Siete contenti? Pensate che adesso Halloween è una roba che si festeggia praticamente Più forse del carnevale quasi mi verrebbe da dire E lo capisco perché è molto carina come festa Questo esorcizzare completamente La morte, l'orrore, il terrore, i vampiri E tutta quella menata lì ci sta nel senso È molto divertente E pensate che effettivamente Ieri così riflettendo, parlando con degli amici Io nel 1996 Feci la prima festa di Halloween La cosa divertente Nel 96 avevo 16 anni Quindi ovviamente non si parlava di andare chissà dove la sera A fare cose Non la facemmo neanche il 31 Perché appunto col fatto che c'è Poi il Cioè il 31 era un giorno che si andava a scuola Quindi non so che si poteva fare il 31 L'abbiamo fatta molto probabilmente l'uno O la domenica successiva anche ancora di più E l'abbiamo fatta di pomeriggio Ok Quindi un pomeriggio di Il primo di novembre a quel punto A Settiro Milanese In una In una delle tanti paesi dell'internet milanese Di pomeriggio Tutto alle due e mezza Tre del pomeriggio Quindi manco c'era buio Con Fate conto Una decina Una quindicina Di sciamannati Di 16 15 anni Che hanno preso l'autobus A Bisceglie Ok Per andare A Settimo Milanese Già truccati ovviamente Perché non è che potevamo star lì tanto a Io Cioè Quindi immaginate anche la gente Che non era abituata a vedere certe cose Veder salire un Frankenstein Uno con l'ascia in testa Anzi Non so neanche se Tra parentesi Non era neanche facile Tipo ce l'avevamo l'ascia Ma era tipo una ascia vera Che avevamo incollato in qualche maniera Cioè perché non è che c'erano tutte queste cose Per fare Halloween Ok Mi ricordo tante dentiere di vampiro Quello sì Perché vabbè quelle c'erano già Però Già nel 96 abbiamo fatto questa festa Cosa divertente Che insomma Ancora i miei amici Mi ricordano Anche un po' macabra Avevo fatto Ero già un po' così Tecnologico all'epoca Avevo giusto una stampante ad aghi Con cui potevo stampare Delle robe che facevano il computer Avevo stampato Delle finte lapidi Da mettere su questa scala Che andava giù nella nostra cantina Con i nostri nomi La nostra data di nascita E c'era già anche la data di morte Che era quel giorno lì Avevo messo ovviamente Quindi quel giorno Eravamo morti tutti Era proprio l'alba dei morti viventi Con male da vendere A proposito di vendere Leggo da Repubblica Milano E a proposito di Halloween Che sono stati fatti dei maxi sequestri Di giochi e decorazioni non a norma Tra parentesi Il titolo dice Halloween e Natale A Milano Sequestrati 80.000 giochi e decorazioni non a norma L'indagine è nata Dalla segnalazione di un cittadino La polizia locale Ha perquisito tre depositi Tra Milano, Concorezzo e Brugherio E denunciato due persone Ecco perché gli oggetti sequestrati Sono pericolosi E su Repubblica appunto Potete leggere tutto quello Che è stato sequestrato E il motivo per cui Non sarebbero a norma Zucche, streghe, cerchietti Maschere per Halloween E poi anche Babbi Natale Di tutte le dimensioni Con movimenti a batteria Soldati Soldati, soldati Sarà soldatino di piombo Quello lì c'è soldati Soldati, elfi, gnomi Nei giorni scorsi Appunto gli agenti Del gruppo operativo Anticontrafazione Della polizia locale di Milano Ha perquisito Scusate Perquisendo alcuni depositi A Milano Concorezzo e Brugherio Ha sequestrato Circa 80.000 giocattoli Potenzialmente pericolosi In quanto Pur recando La marcatura CE Risultavano non conformi A requisiti di sicurezza Previsti dalle normative europee Quindi se mangiare il marchio E l'ha messo un po' così a caso La cosa che Bisogna stare attenti Perché poi dopo è un attimo Nel senso che poi È bello L'albore di Natale Con le lucette Che abbiamo preso Dall'amico del cugino Dello zio E poi dopo Prende fuoco E ci piglia fuoco Pure il gatto Quindi insomma Attenzione Che insomma Sono cose pericolose Lo so Sì costano poco Sono belle Fanno scena Che bello che bello Ma sì Tanto mai Quando mai succederà Se volete Chiamiamo Al numero di cellulare Del responsabile Dei vigili del fuoco Di Milano Vi faccio dire Quante Interventi fanno Soprattutto sotto Il periodo di Natalizio Per timer Dei presepi Delle luci dei presepi Luci Dell'albero di Natale Messe così a caso Triple Quadruple Quintuple Presente le ciabatte Con la tripla Poi ci mette l'altra tripla Ecco Degli lacrochi Che sono degli alberi di Natale Già solo quello Poi ve lo faccio dire da lui Quante ne fanno Che sono veramente Un numero Esorbitante L'altra notizia Che leggo invece Più Tranquilla Più serena Ma che mi fa riflettere È che Halloween è Natale Ok qui sul giornale Ci sta Perché insomma Giustamente i magazzini Già si stanno riempiendo Di quello che ci servirà A Natale Ma ieri Eravamo qui in studio Che stavamo parlando A un certo punto Una persona Dice Adesso che siamo in Periodo natalizio Io guardo che andavo Siamo a fine ottobre Cioè Quando è che inizia Sto periodo natalizio Cioè Ormai dal giorno dopo Che inizia la scuola Mi verrebbe da dire Che c'è il back to school Poi inizia la scuola Basta Da quell'istante C'è il periodo natalizio Cioè Continua avanti Fino a Che poi non si ferma neanche Perché non si ferma a Natale Arriva almeno Fino alla Befana Poi per alcuni Anche verso fine gennaio Si continua Ad utilizzare quel mood Ad ascoltare Mariah Carey No? Queste cose qua Mettere la neve finta Sui vetri C'è ancora chi fa Le decalcomanie Sui vetri Con la neve finta I negozi Una volta Lo facciano tantissimi negozi Scrivevano di tutto e di più C'erano delle opere d'arte Dei pollock Sulle finestre E sulle vetrine Dei negozi Non so se adesso si usa ancora O ormai con i led Con la stampa 3D E con gli ologrammi E con i proiettori Ormai si fa tutto Però nel senso Anche quello Bisogna Già c'è in giro Roba Ho visto Case Ieri ho visto uno qua In via Novara Che ha messo Delle luci Proiezioni Fiocchi di neve Che passano Su tutta la facciata Della casa Io pensavo fosse Lo stadio Quando sono passato Dalle luminari Che ho visto Invece no La casa privata Ho visto anche Alte lampadine In giro su Balconi vari Della zona I negozi Stanno già cominciando Adesso è tutto arancione I negozi Ma fra poco Arriva sicuro Il Natale Il Luna Pop Con 50 special Alle 7.35 minuti Su Crystal Radio Good Morning Milano Vi ricordo sempre Il 96.2 FM Il Dub Plus In tutta la Lombardia E poi L'applicazione Per iOS e Android Anche il sito Internet Crystal Radio Punto IT C'è anche poi Il nostro numero Di Whatsapp Che è il 331 78 53 555 Stanno arrivando In Whatsapp Adesso poi Diamo spazio Un attimo Al nostro ospite E dopo Arriviamo anche Da voi Che avete scritto Diamo spazio Al nostro ospite Perché così Il titolo potrebbe essere E mi piace sempre Parafrasare Anche i pensionati Nel loro piccolo Si incazzano Potrebbe andar bene? Buongiorno A Daniele Gazzoli Segretario Della region Segretario Lombardia Di Spici GL Buongiorno 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 a te Buongiorno a voi Buongiorno a tutti I radioscoltatori Direi che Nel piccolo Anche i pensionati Si incazzano Ci può stare a pennello Rispetto alla manifestazione Alla manifestazione Di oggi Perché oggi Si scende in piazza E non Posso fare la battuta? E non a vedere i cantieri Ma A fare che cosa? No Oggi abbandoniamo La versione Umarelle E ci mettiamo In versione Manifestanti Lo facciamo in piazza San Babila Questa mattina Alle 9.30 L'iniziativa regionale Della Lombardia Rientra dentro Una mobilizzazione Più ampia Che in questi giorni Dal 28 al 31 ottobre Sta venendo In tutte le regioni italiane Una manifestazione Da parte dei pensionati Con ovviamente Al centro I temi Gli argomenti E le nostre richieste E le nostre rivendicazioni Che facciamo In primis Al governo In quanto Nella legge di stabilità Che si sta varando In Parlamento Speriamo Possano trovare Risposte A queste richieste Che sono risposte Contingenti Ed urgenti Ecco Quali sono Soprattutto I vostri desiderati O meglio Le vostre rivendicazioni Perché sono Abbastanza interessanti Non sono Non sono neanche Sempre le solite Come si potrebbe pensare No Noi proviamo A mettere al centro Ovviamente Dentro una mobilitazione Più ampia Che guarda Anche ai temi Del lavoro Perché ci ricordiamo Ancora bene Di quando si stava Al lavoro Di quanto sia importante Un lavoro dignitoso Sicuro Ben retribuito Diciamo così Ma oggi mettiamo Al centro Come dicevo prima Le rivendicazioni Specifiche Dei pensionati Abbiamo usato Uno slogan Crediamo Anche forte Ma che rende bene Il senso E che è Il potere d'acquisto Logora Chi non ce l'ha Perché noi Nelle rivendicazioni Che facciamo Partiamo Dal tema Di una piena Rivalutazione E mantenimento Del potere d'acquisto Per i pensionati Che negli ultimi anni Troppo spesso Le pensioni Sono state utilizzate Come bancomat Per prelevare Dei soldi E utilizzarli Per fare Per fare altro Crediamo invece Che chi ha lavorato Una vita Debba continuare Ad avere la possibilità Di avere una pensione Dignitosa Il secondo pilastro Di questa nostra iniziativa È il tema Della sanità Ovviamente La sanità È importante Per tutti In tutte le fasi Della vita Ma per chi Ha qualche anno In più Un po' meno giovane Evidentemente Il tema della sanità Diventa ancora più rilevante Chiediamo Una sanità pubblica Universale In cui le liste D'attesa Problema che in Lombardia Purtroppo Conosciamo molto bene Sono troppo lunghe Parliamo di mesi In alcuni casi Più di un anno Per alcune visite E sono troppe le persone Anche nella ricca Lombardia Che rinunciano A curarsi O che non trovano Un medico Di medicina generale Che se li prenda in carico Il terzo Delle quattro colonne È il tema Del fisco Chiediamo Un fisco Equo Che redistribuisca Le risorse A chi le tasse Le paga Fino all'ultimo centesimo In particolare Pensionati E lavoratori Dipendenti E su questo versante Anche se è un problema Spinoso E complicato Il tema Della lotta L'evasione fiscale Dovrebbe essere Per noi Centrale Ultimo Ma non per importanza Chiediamo Il finanziamento Di una legge Importante Che in questo paese C'è già Che è quella Su una non autosufficienza Che ha bisogno Però di essere Contenuta Riempita In particolare Di contenuti E di risorse Perché quelle risorse Sono necessarie A fare sì Che chi vive Il dramma Umano Di avere una persona Non autosufficiente In famiglia E non parliamo Solo di anziani Non debba anche avere La beffa Dal punto di vista economico Anzi Ecco questi quattro Sono i quattro tardi Segretario Mi viene a dire Anzi Giustamente detto Quando qualcuno Magari ha questo problema Di avere una persona Non autosufficiente In casa E non parliamo solo Di anziani Anzi A volte È l'anziano Che magari diventa Anche caregiver Diciamo All'americana Di la persona Magari non autosufficiente Cioè è un È un lavoro Poi diventa quello Infatti c'è un passaggio Nel vostro comunicato stampa Che mi è piaciuto molto Dove ditte anche Appunto Che c'è questo lavoro Che appunto Non sta ritribuito In quanto pensionati Ma che è quello Che riguarda Il punto Il welfare familiare E il volontariato Che quindi bisogna anche salvaguardare Diciamo Il pensionato In quanto anche Comunque ancora Attore sociale Della nostra società Della nostra sistema Assolutamente sì Nel senso È un punto A cui teniamo molto Perché Spesso si prova A dipingere La figura Dei pensionati Come dei privilegiati Che hanno delle pensioni Medio-alte Che si godono Che si godono La vita Ha letto che non ci sarebbe Nulla di male Godersi la vita Dopo oltre 40 anni Di lavoro E ci mancherebbe altro Non bisogna sentirsi In colpa Per quello No esattamente Ma soprattutto Quello che sottolineavi Tu rispetto al tema I pensionati Spesso si sostituiscono Laddove non arriva Lo Stato Pensiamo A tutto il tema Dell'assistenza Che ricordavamo Prima alle persone Magari non autosufficiente O semplicemente Alla cura Dei nipoti Laddove non ci sono Gli asili nidi Laddove gli asili nidi Sono diventati Proibitivi Da un punto di vista Dei costi E i nonni O i genitori Intervengono Aiutano E supportano E supportano Le famiglie I pensionati Sono quelli Che tengono Vive le comunità Spesso le tengono Legate tra di loro Le fanno sentire Appunto comunità E svolgono Quello straordinario Di lavoro Di volontariato E proprio Per queste ragioni Siccome Vogliamo continuare A farlo Per la nostra dignità Per quella Delle future generazioni Oggi Chiediamo a tutti quanti Di venire in piazza Con noi A manifestare E a chiedere Che questo possa Continuare ad essere fatto E allora Secretario Ci dia bene Faccia l'appello In questo momento Faccia il comunicato L'appello Per dirci Come e quando Venire in piazza Questa mattina Allora Noi vi aspettiamo Tutti questa mattina Alle 9.30 Dalle 9.30 In piazza San Babila A Milano Per ripeto Rivadire Che i pensionati Dopo una vita di lavoro Hanno il diritto Di poter continuare A farla E hanno il diritto Di chiedere Pensione adeguata Una sanità pubblica Universale Un fisco equo E una legge Sulla non autosufficienza Per tutte queste ragioni Vi aspettiamo In piazza San Babila Alle 9.30 Per stamattina E allora Grazie mille A Daniele Gazzoli Secretario generale Dio Spicci General Lombardia Ci faccia sapere Poi come va E comunque Siamo dalla parte Di pensionati Anche solo Guardi Le dico la verità Solo anche per tante invidia Perché comunque Ci piacerebbe anche un giorno Finalmente poter andare In pensione anche noi Quindi insomma Anche solo per quello C'è tanta tanta stima Vi aspettiamo E saremo ben felici Di accogliervi Nel mondo dei pensionati Che bell'augurio Questo me l'ho tatuo Adosso Grazie mille Secretario Buona manifestazione Buona giornata Andiamo avanti Con un po' di musica E poi torniamo qui Fra poco Sempre con Good Morning Milano E questo era Stroma E con Formidable Alle 7.45 minuti Qui su Crystal Radio Come sempre Good Morning Milano Allora Lunedì c'è stato Il concerto di Gali Lunedì 28 Lunedì Non era domenica Aspetta Ambiatrice Mi metto che è domenica Era domenica No era lunedì 28 Lunedì era il 28 Lunedì 28 Hai guardato Settembre invece Che ottobre Va bene O novembre Non so adesso cosa hai guardato Va bene Ambiatrice Neanche un calendario Comunque va bene Perché ve lo dico Ovviamente perché Quando sento stromare Non posso non pensare a Gali O meglio Molto bene Gali non può pensare A se stesso Quando sente stromare L'ha già detto In tante volte Insomma si è Più volte Ispirato A quello che è Uno dei suoi Contaminazioni Diciamo Ma ci sta Nel senso Sono i suoi idoli L'unica volta Che ho visto Guy dal vivo L'ho visto al concerto Di stromare Eravano tutti due Nel pubblico Uno di fianco all'altro Lui al di là Della bindella rossa Della VIP zone Io di qua Però fa niente Comunque Lo dico perché Perché appunto Lunedì c'è stato Questo concerto Pazzesco Dicono tutti Appunto Al forum Di Assago Gali che ha cantato Tutto il suo repertorio Ormai numeroso Anche Di canzoni Insomma che quindi Ha fatto Il suo bello show Ospiti Insieme a lui C'erano L'Azza Tony F Simba Larou Sul palco Poi La bandiera Palestinese E anche Il riferimento Alla malattia Della madre Lo sapete appunto La canzone Niente panico Racconta proprio di quello E ha detto Sto vivendo il periodo Più brutto Della mia vita Ma ne stiamo Uscendo Insomma è bello Anche vedere Questa volontà Degli artisti Di condividere Anche parte Della loro intimità Con il proprio pubblico Forse anche perché Veramente quel pubblico Fa parte Della loro intimità Entra a far parte Della loro intimità E quindi anche Un concerto Con tante mila persone Che può essere Quello fatto Al far un assago Tra oltretutto C'erano giochi di luce Led Proiezioni Pazzesche Davvero anche All'avanguardia Bene Nonostante tutto questo Una volta Abbiamo detto Tutti questi glitter Intorno a sé Comunque Si porta anche L'intimità Di un momento difficile Come quello che sta vivendo La mamma Di Gali E Gali Di conseguenza ovviamente Anche se appunto Il suo messaggio È sto vivendo Un periodo Il periodo più brutto Della mia vita Ma ne stiamo Uscendo Quindi tanti Tanti auguri Anzi Alla famiglia Gali Potremmo tranquillamente dire così Un concerto Appunto Quello di Gali Che è stato Eratteso da tanti Eratteso da molto E che ha Confermato Comunque La grande caratura Dell'artista Che insomma Ricordiamo Siamo bene anche Contenti di dirlo Ricordiamo sempre Comunque Viene da qua Cioè siamo vicini di casa Nel senso Noi qua Zona municipio set Zona baggio Insomma Siamo orgogliosi Di aver dato al mondo L'organo di Baggio Il famoso Vassona L'Organ E anche appunto Gali Che ha fatto Grande grande Spettacolo Adesso ovviamente È in tour Quindi potete seguirlo Anche in altre Città italiane E sicuramente La potete seguire Anche qui Su Cristal Radio Perché sappiamo Che spesso Volentieri Passa Anche perché Sappiamo che I piani alti Hanno un debole Per Gali E quindi Insomma Siamo ben contenti Ogni volta Che lo vediamo In programmazione Sappiamo che C'è l'ufficio Programmazione Ma ancora più su Quando si arriva su Nell'ufficio Del mega Iper grande Direttore Della radio Si sa che lì dentro Si può parlare Solo bene E ascoltare solo bene Di Gali Quindi insomma Ascoltate Cristal Radio E non rimanerete Mai mai delusi Dalla nostra Programmazione musicale Programmazione musicale Che continua Anzi Ancora un paio di pezzi Poi arriverà il giorno Alle radio E poi arrivano gli ospiti Insomma lo sapete Tutte le mattine Funziona così Siamo qui Per raccontarvi Tutto quello Che succede A Milano Anche al 33178 53555 Sono arrivati Di Whatsapp Adesso li leggo Una canzone Poi li leggo Promesso Hey look ma I made it Panic at the disco Panic at the disco No non quelli Quella era una canzone Invece questi qua Quindi fossero gli al casaco Cosa del genere Si chiamassero In questo istante No invece questi si chiamano Panic at the disco E cantano un'altra canzone Comunque vabbè Un po' di buona musica Non fa mai male Come non fanno mai male I vostri Whatsapp Parlavamo appunto Dell'arrivo del Natale Dell'arrivo Cioè di Halloween Praticamente Che siamo mai dentro Pieno E nonostante Non sia ancora arrivato Perché appunto Arriva dopo domani Cioè domani sera È già tipo Un paio di settimane Che Halloween ovunque Ma è già Natale ovunque Tant'è che appunto Anche Alberto Ci scrive Ma del resto Anche gli artigiani Della qualità Hanno già Hanno cominciato Già a fare lo spot Natalizio In tv A fine settembre O ai primi di ottobre Sì effettivamente Vanno avanti da non so quanto Anche loro Quindi se iniziano loro Sono gli apripista Ancora prima Una volta era Maria Curry Adesso prima di Maria Curry Gli artigiani della qualità E beh insomma Questo è un po' Il momento in cui siamo Sono contento che Insomma gli ospiti Che vengono qua Vi interessano E vi stuzzicano E vi stimolano E anche arrivano le critiche Giustamente Al magari il tema Che tu dici Quello va bene Però Perché poi c'è sempre quello Tu hai voglia Di parlare di un tema Però poi Ci sono tanti altri Che ahimè Rimangono Magari fuori Allora arriva Un whatsapp Ad esempio Di Adriana Che dice Io trovo giusto Tutto quello che state dicendo Per carità Ma è possibile Che si parli di tutto Tranne che di giovani E effettivamente Esiste un sindacato Dei pensionati Esiste un sindacato Di qualunque cosa Ma un sindacato Dei giovani Non esiste Ad esempio Ieri ad esempio Ho ascoltato un intervento Di Flavia Carlini In merito alla situazione E la situazione È sempre Peggio Siamo dimenticati Dallo Stato E effettivamente I giovani Sono quella categoria Che non si sa mai Bene come andare A intercettare Tra partire Che non è anche Così semplice Capire poi Chi sono i giovani Qua Come si affacciano Al mondo del lavoro Al mondo della casa Tutto questo mondo nuovo E non è facile Non è facile per nulla Dion Warwick Con Heartbreaker Alle 8 e 9 Qui su Crystal Radio Good Morning Milano 8 e 0 9 Good Morning Milano Crystal Radio Siamo qui in diretta Ancora sui 96.2 FM Poi sul Dan Plus Lo sapete Questa era Dion Warwick Quella che avete appena sentito E qui di fianco a me No non c'è Dion Warwick Ma c'è la Donna Summer Di Baggio Oggi ho deciso Che sei questo Buongiorno Roberta Lamberto Buongiorno Fabio Buongiorno Assessora Del Municipio 7 Ha praticamente Un terzo Di tutte le idee Perché praticamente Avete 200 deleghe E ve le dividete in tre Poi o meno Cioè è così che funziona Da rivedere Fai Ecco Questa è rivedibile Come facevano noi Quando andavamo a fare i tre giorni Roba che tu non sai Che cosa sono Comunque Facci l'elenco Quali sono le deleghe che hai? Welfare Commercio Lavoro Pare opportunità Mobilità Urbanistica Disabilità Ricordarsene tutte Non è facile infatti Oggi quindi Parliamo ancora di territorio Sono ben contento Perché insomma Sempre parlare di municipi Anzi Noi giochiamo in casa oggi Però in realtà Siamo contenti anche Di avere qui anche Gli altri municipi Quando possiamo Municipio 7 Ricordiamo insomma Uno su tutti Baggio Così per ricordarlo Ma non solo San Siro De Angeli Ma anche Figino Muggiano 170.000 abitanti Diciamolo E più grande di Brescia Ecco Più grande di Brescia E però è un municipio Quindi adesso Non rientriamo Sempre in questo discorso Del decentramento Che sai Noi Roberta Siamo grandi fan Invece del Darvi il più possibile Libertà di espressione A voi dei municipi Oggi qui a parlare Di varie situazioni Che appunto Si vanno a creare Sul municipio 7 Ad esempio C'è anche uno stadio Ma non dovrei stare Troppo adesso Uno Due Tre Quattro Stiamo cercando Di capirlo Ecco E non è male Se stiamo cercando Di capirlo Una roba che tutti quanti Stiamo cercando Di capire Non si capisce Da chi Ma prima Vorrei partire Invece con un altro Luogo Che vedrà Nascere un progetto Bellissimo Ma che In un momento Ha qualche Difficoltà Su cui voi Anzi Avete subito voluto Mettere L'accento Stiamo parlando Dell'ex Marchiondi Giusto? Dell'ex Marchiondi Questo elemento Di brutalismo Italiano Tant'è che Una sua miniatura È esposta anche Al MoMA Di New York Siamo proprio A Baggio Ed è questa struttura Ormai Completamente Disabitata In cui però In una piccola parte Abbiamo il nostro Centro diurno Disabili Io faccio sempre Un cappello Ogni municipio Ha dei centri Diurni Disabili Che accolgono Le persone Con disabilità Dopo il percorso Scolastico Fino a Oltre i 60 anni Possono esistere Di doppia natura O convenzionati Quindi privato sociale Oppure del comune di Milano Noi ne abbiamo quattro L'unico Proprio di diretta gestione Del comune di Milano È proprio Il nostro CdD Noale All'interno Dell'ex Marchiondi Ecco Perché ne parliamo Però di questo CdD 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 Noale Perché ne stiamo parlando In questo momento Perché insomma Marchiondi Verrà visto Da una riconificazione Che finalmente Arriva Sì Arriva la luce Dopo anni Chiaramente il comune Non poteva sostenere Quella spesa È riuscito però A vincere Un bando importante Con il collegio Delle università E questo Diciamo che per capirci Un attimo Tutto l'intervento Cuba Più o meno 45 milioni di euro Quindi un macro Intervento E tra l'altro Visto che ieri C'è stato Il consigliere comunale Federico Boccelli Diventerà quel luogo Proprio uno studentato Universitario Per le belle arti Quindi si va a dare Anche una risposta Saranno 168 posti letto Quindi Da un immobile In disuso A 168 posti letto Per gli studenti E le studentesse di Milano Diciamo che L'upgrade È importante Bello che viene Anche già decisa La destinazione Di facoltà In un certo senso Così che puoi anche Andare in un certo senso Poi a mischiare Le intelligenzie Giovanili Che arriveranno Nelle varie zone Non succede spesso Infatti Tra l'altro Sarà anche un'opportunità Per il quartiere Perché anche il tessuto Poi economico E sociale Si stravolge Quando ci sono 168 Ragazzi e ragazze All'interno Di uno studentato Però Al netto Di questa grande felicità È arrivata Una fortissima Preoccupazione Non solo da me Ma dai caregiver E dagli educatori E le educatrici Quale futuro Per il CD di Noale Perché Sarà bello Fare poi I grandi ragionamenti Però Quest'estate Inizieranno i lavori Perché non è tanto Sul dopo Non è tanto sul dopo Lo spazio ci sarà sicuramente Anzi che bello Vedere il CD di Noale Rifatto Da capo a piede Bellissimo Sono tre anni di lavoro Tre anni di lavoro In questi tre anni Il CD di che fine farà? Ecco Questa è una grandissima domanda Noi Speravamo che Diciamo ci fosse già Una risposta E Invece la risposta Va trovata adesso Quindi come municipio Cosa abbiamo deciso di fare? Nell'istante In cui abbiamo Saputo Di questa notizia Abbiamo pensato Che fosse importante Fare subito Un atto ufficiale Una mozione Firmata anche dall'opposizione Quindi che ha avuto L'unanimità In aula In consiglio prima In commissione prima In aula poi In cui appunto Scriviamo Nero su bianco Che per noi Non c'è Assolutamente Che l'ipotesi Dello smistamento Per noi Non è percorribile Stiamo parlando Di persone Stiamo parlando Di anche Gravi disabilità Abbiamo 20 ospiti All'interno Del CD di Noale Non è un numero Piccolo Stiamo parlando Di persone Che non reagiscono Bene ai cambiamenti Quindi già Mandarli in un'altra Struttura E accompagnarli In un'altra struttura Sarà appunto Un accompagnamento Da fare Non accettiamo Assolutamente Appunto L'ipotesi Dello smistamento Vuol dire Quindi dividere Quel gruppo E mandare Un po' qui Un po' l'anni Gli altri CDD Che tra i paesi Non sono anche così Vicini Esatto L'assessore Bertolè Il direttore Barbalace Anche sull'ipotesi Dello smistamento Hanno detto Non sarebbero Più di due gruppi E faremmo Dei colloqui Individuali Famiglia Con famiglia Per capire Il CDD Più vicino Ci sarebbe Il pulmino E quant'altro Ma da quanto capito Quindi non è tanto Un tema però Di praticità In realtà Non è quello È un problema Di Sono persone Che appunto Il cambiamento Esatto Il cambiare Anche il gruppo Non è una cosa Anche l'educatore Perché noi ora Parliamo di CDD CDD ci sono Da relativamente poco Ma semplicemente Prima avevano Altri acronimi All'interno Di quella struttura Questa struttura Per disabili C'è da 40 anni Vuol dire Che ci sono ospiti Lì da 20 E che quindi Hanno magari avuto Solo un educatore Nella loro vita E tra l'altro A volte Quando si parla Anche ho letto Delle interviste Magari qualcuno Non è proprio E scrive I nostri ragazzi I nostri ragazzi Virgola Sono uomini e donne I genitori Magari hanno 90 anni Letteralmente Quando sono ancora vivi Perché si parla spesso Del dopo di noi E tutto Ma anche durante Andrebbe un attimo Approfondito La questione qual è Trovare un immobile Lì vicino Non è Cosa Semplice E veloce Perché ATS Deve dare L'approvazione Quindi Noi abbiamo fatto Un lavoro Anche appunto Con i comunicati Stampa Con tutti voi Che ci avete dato ascolto Proprio per Dire a gran voce Al comune di Milano Iniziamo immediatamente Una mappatura Sopra luoghi Perché Non può Non Non esserci una soluzione E allora Adesso poi Capiremo un po' Come andrà a finire Questa storia Anzi ti dice Aggiornata Ma continueremo a parlare Anche di Municipio 7 Del territorio Di tante altre tematiche Subito dopo un po' Di musica Sempre qui Con Roberta Lamberto Roberto lei stavo chiamando Pensate Mi arrivano le sue email Ah vedi Ti arrivano anche le sue email Appunto Roberta Lamberto Municipio 7 Qui con noi Renato Zero Con il triangolo Alle 8 e 22 minuti Qui su Crystal Radio Good Morning Milano Siamo qui appunto Con Roberta Lamberto Del Municipio 7 Stiamo parlando del futuro Dell'ex Marchiondi E del futuro del CDD Però di via Noale 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 scusa Di via Noale È un'azione politica Quella che state facendo In tutti gli effetti Cosa volete fare Qual è l'obiettivo Adesso È un'azione politica Noi con il Comune Da anni che lavoriamo Vogliamo una Milano Che vada avanti Senza lasciare indietro Nessuna fragilità Ecco non possiamo Quindi immaginare Che per fare spazio A uno studentato Si debbano fare Indietro Le persone con disabilità Il nostro municipio Tu lo sai tra l'altro Perché sono stata qui Proprio la mattina Prima del lancio Siamo l'unico municipio L'unica città In tutta Italia Che ha il progetto Del sollievo Un patto firmato dal Comune Che significa che Quando i nostri centri Diurni disabili Sarebbero chiusi Natale Ferragosto Pasqua Noi come municipio Finanziamo completamente Le vacanze Abbiamo avuto Delle esperienze Importantissime Genitori di 70 anni Che per la prima volta Potevano andare Sono andati al cinema A vedere il film Della Cortellesi Perché i ragazzi Quarantenni Erano al mare Questa cosa Di dei ragazzi Sempre A che punto Dicevi che sono spesso Uomini e donne Questo secondo me È proprio un bias culturale Come quando si dice Incidente stratale Non è un incidente Perché se no Facciamo pensare al caso Come ragazzi Facciamo pensare a qualcuno Che non abbia autonomia E responsabilità su se stesso Non è così Sono persone Sono adulti Veramente sono adulti Quindi noi non siamo Non siamo pronti E disposti A far fare nessun passo indietro Al nostro CD di Noale Che è parte integrante Del tessuto sociale Economico Associativo Ricreativo Ludico Del quartiere di Baggio Stiamo aspettando Dal Comune di Milano E dall'assessore Bertolè Che ha capito La nostra istanza È completamente allineato Un report Un feedback Su tutti i sopralluoghi Fatti appunto Di immobili In questa In quest'ultima settimana E direi Rimaniamo aggiornati Eh sì Ti devi tenere aggiornati Perché insomma È importante Ricordami velocemente Quel progetto Che dicevi appunto Del sollievo Che è molto Molto interessante Sì è molto interessante Anche perché Ho avuto delle belle chiamate Di altre città d'Italia Soprattutto centro Italia Ma anche città molto Molto grandi Che hanno detto Lo faremo anche noi Mandateci tutto Venite a raccontarlo In commissione Io appena mi sono insediato Ho avuto una mamma Una care giver Che è venuta il secondo giorno Di assessorato E mi ha detto Iniziamo bene Esatto E mi ha detto Pensi anche che Quando voi avete I vostri giorni più belli Per noi il carico È pesantissimo Noi spesso parliamo Delle persone con disabilità Ma i care giver I fratelli e le sorelle Anche perché spesso L'età significa Che poi arrivano I fratelli e le sorelle È veramente un peso Davvero importante E quindi noi abbiamo deciso Con la totalità Del nostro portafoglio Di finanziare Di fare con loro Proprio un progetto Quindi durante l'anno Tante feste insieme Tutti i quattro cd insieme Adesso avremo La festa di Natale Al centro di uno disabili Dognocchi In cui dei genitori Che si sono conosciuti In questo progetto Sono diventati Una band musicale E suonano Per i ragazzi Però appunto In estate In inverno Fanno delle vacanze Completamente appunto Finanziate dal municipio E tutti prendono Un po' di sollievo Un po' di respiro Beh insomma Questo è uno di quei progetti belli Che nascono appunto Pensate Nasce in un piccolo Tra molte virgolette Municipio Di Milano Per poi appunto Magari espandersi In tutta la penisola Non sarebbe per niente male E' questo Che quando io rompo Le scatole Sul decentramento Sul dare Perché anche la questione Anche la questione ad esempio Del cdd noale Se il municipio Avesse avuto Voce in capitolo Perché voi Molto probabilmente Così Non lo so Mi butto in zapparacadute Voi avete saputo Di tutto quanto A cose fatte Giusto? Sì Ecco immaginavo Magari invece Se sono loro A dover decidere Cosa fare Non fare Ma prima di tutto Se sbagliano Sappiamo che A chi andare A bussare A dire allora Cosa avete combinato Secondo Magari Lo sapevate subito Che c'era il cdd Lì dentro Dire ok Guardate Va bene Nel progetto Ma come facciamo Subito all'inizio Cioè Siamo molto fortunati Ad avere Secondo me Gaia Romani Come assessora Al decentramento Perché in questi anni Sono stati fatti Dei passi in avanti Io lo continuo a dire L'obiettivo è Roma I municipi romani Hanno piene competenze Responsabilità Budget Indennità Perché questo poi È un altro Grande tema Abbiamo pagato Lo stipendio Ultimamente o no? Sì Abbiamo un buco Di qualche mese Perché tutto questo Poi Non è che prendete Stipendi Stellari Ma manco Gli ridiamo Perché sappiamo Che da maggio A giugno Abbiamo avuto Un po' di mesi Tra quattro mesi Non vi è stato pagato Lo stipendio Perché c'era Un cavillo Tecnico Per cui poi Si è trovato Il modo di pagarveli Ma non li ha retrati ancora Perché so che appunto Anche il presidente Del municipio 5 Abbiamo avuto qui Qualche settimana fa E mi ci raccontava Anche lui La stessa cosa Vabbè Questo Travi capire Come è davvero L'obiettivo è Roma Ma non Piliamo se Roma Come diceva qualcuno Ma più che altro Copiamo Roma Il decentramento Copiamo il decentramento Di Roma Che sembra funzionare bene Perché non portarlo Anche nella nostra città Perché non portarlo Anche appunto Nella Milano Decentrata Che è quella che tutti Vorremmo Un po' di canzone Del tuo vicino di casa Adesso va bene Gali Abbiamo Gali Appunto Con niente panico Vieni alla sagra Gali Ti aspettiamo Il prossimo anno Il prossimo anno Era il forum Due giorni dopo Quindi aveva da fare Conflitto interesse Povero tapino Va bene Dai Andiamo con Gali E poi torniamo qui Ancora con Roberta Lamberto Taylor Swift Shade Off 8 e 35 minuti Crystal Radio Good morning Milano Roberta Lamberto Del municipio 7 Qui con noi Che ha lanciato appunto Un appello Per chiedere a Gali Di venire alla prossima Sagra di Baggio O ma che vada Anche Taylor Swift Sì sì Ci accontentiamo Noi siamo umili Vorremmo Gali Però nel caso C'è sempre Taylor Swift Potrebbe fare una mancarella Con i braccialetti Esatto Delle canzone Poi gli introiti Il municipio Un po' di progetti Ne faresti a quel punto Ma nonostante Non avete gli introiti Dello Swift E Gali Non è venuto a trovarvi Di progetti Ne fate veramente Comunque tanti Ora inizia il Natale Anche tu che mi dici Sta frase Cioè il 30 di ottobre Mi viene detto Ora inizia il Natale Noi abbiamo deliberato A giugno Sul Natale Capite Mariah Care Che viene scongelata Dopodomani È già in ritardo Esatto E cosa avete deliberato Allora noi continuiamo Con la nostra tradizionale Pista sul ghiaccio Pista sul ghiaccio Nel nostro quadrilatero San Siro San Siro Una periferia Una periferia Asprissio Ma una periferia centrale Perché sono come Quattro muri invisibili In un quartiere Che è tra i tre più ricchi Di Milano E all'interno C'è proprio In piazzale Seninunte 2 Una ex macelleria Tantissimi metri quadri Che appunto Hanno chiuso dopo il covid Perché è andata in bancarotta Questa attività Noi abbiamo fatto Con l'ex assessore Maran Che ora ci saluta Da Bruxelles Un cambiamento importantissimo Dalla destinazione D'uso commerciale A sociale Ed è diventato Grazie al CSI Che ha vinto il bando Centro sportivo italiano Una palestra Per ragazzi e ragazze Completamente gratuita Box capoeira Ginnastica La mattina Per un anno C'è stata la scuola D'italiano Per le mamme Il baby parking Insomma Aggregazione sana E vera All'interno del quadrilatero Per i ragazzi e le ragazze Proprio lì dietro Dopo il parcheggio Retrostante Avremo la pista Da pattinaggio Come municipio Anche quest'anno Intercetteremo Tutte le associazioni Parrocchie Enti Le scuole Per dare i biglietti Gratuiti Per i ragazzi e le ragazze Perché un evento Del genere Deve essere accessibile Se no poi attira Per chi se lo può permettere Non chi vogliamo essere Il nostro target Insomma Perché è bello Questo Il progetto viene fatto Ma viene fatto Per chi ci vive Poi Ci vive tutti i giorni L'anno scorso Siamo stati appunto All'inaugurazione Sempre una bella emozione Vedere poi Questi ragazzi Per cui alcune volte Magari sono anche la prima volta Che vedono una pista De pattinaggio L'anno scorso Era la prima volta Infatti Quindi insomma Adesso sono abituati Anzi quest'anno Vi chiederanno chissà cosa Quest'anno vogliono Scivoli Esatto Poi è molto bello Il CSI porta sempre Dei campioni olimpici Dei paratleti Ed è molto importante Dare anche un'alta qualità In quegli ambienti Per spiegare Che tutto è possibile Siamo anche comunque La città Che fra due anni Vedrà poi le olimpiadi Quindi insomma Magari che qualcuno Si appassioni Già prima delle olimpiadi A quello che potrà vedere Non è male Non è male Non è male E tutto questo appunto Grazie ai progetti Che il Municipio 7 Ne fa Ne fate veramente tanti Cos'altro stai A Murales Come siamo messi Perché so che Ce ne sono anche Murales in giro È facile Adesso quest'anno Sulla resistenza Adesso si sta lavorando Con i centri di aggregazione Giovanile Sono i CAG Quindi dove i ragazzi Vanno a fare il doposcuola Banalmente Stanno facendo loro i progetti Quindi tra un po' Verrà la mia collega Erika Sovano A raccontarteli Io invece ti dico Che per tuttora Il periodo di dicembre Abbiamo tantissimi spettacoli Mangiafuoco Giocoleria In tutti i quartieri popolari Del municipio Con una grande festa In Via Quarti Via Quarti è una Appunto anche lì Casa di edilizia residenziale Pubblica Molto isolata Le cronache Non mi è parlato molto bene Anche diciamo Esatto L'anomea Esatto Vorremmo dare Un'altra realtà Quindi abbiamo firmato Un patto di collaborazione Con tutte le associazioni Io in estate Porto appunto L'educativa di strada Il camion dei medici Volontari Che senza richiedere I documenti Fa le visite gratuite E appunto A tutte le persone E intanto I ragazzi e ragazze Giocano Perché spesso Non lasciano l'alloggio I genitori Non solo per problemi economici Ma perché sennò Verrebbe occupato nuovamente Quindi Abbiamo un tema I bambini non fanno le vacanze I bambini e le bambine Che non fanno le vacanze È un grande tema E perché infatti Il tema del tempo libero Un tema interessante Il tema anche Di staccare la spina Quello che noi diciamo Che noi possiamo permetterci Ma senza neanche pensarci Cioè Tu potresti mai pensare Di non fare vacanze Certo No Io infatti A me era rimasto molto in mente Una professoressa Una maestra Delle scuole primarie Appunto del quadrilatero Diceva che a settembre Lei non chiedeva mai Che cosa avevano fatto I bambini Durante l'estate Ho pensato che non fosse giusto Un bel riscontro Che abbiamo avuto È stato due anni fa Quando la sesta maestra È venuta E ha detto Quest'anno Noi avevamo fatto Tutto il progetto Quindi nei cortili Delle case popolari Educatori Tantissimi giorni Merende sane Dal parco agricolo sud Insomma Avevamo fatto Un bel lavoro Finanziato anche da Heinz Quindi avevamo agganciato Pure una bella Una bella partnership Tra i giochi C'era la pesca Di legno Quella con la calamita Non so se te la ricordi Però nella testa dei bambini Quello è andare a pescare al mare Quindi poi Tornando a scuola Hanno raccontato Di essere andati a pescare Per la prima volta A volte basta Veramente poco Insomma Se non possiamo andare in vacanza Portiamo la vacanza a casa nostra È quello che siete riusciti a fare In quel caso Posso rubarti solo 30 secondi Una cosa a cui Tengo tantissimo Sta appena finendo Il mese della prevenzione Per i tumori Al seno Delle donne Questo è Tra tutte La tematica Che a me tocca Di più E su cui penso sia Importante restituire qualcosa Al territorio Noi quest'anno abbiamo fatto Dei progetti bellissimi Con l'ILT Quindi Lega italiana Per la lotta ai tumori E Nel quadrilatero San Siro Abbiamo avuto Il camioncino di l'ILT Che ha visitato Gratuitamente Tantissime donne Facendo mammografie Ecografie Senza richiedere documenti La prevenzione È importantissima A volte abbiamo In questi temi Un po' Il vincolo linguistico E quindi Prima di questo evento Abbiamo organizzato Un incontro Con le dottoresse Della l'ILT E una mediatrice Arabofona Che ha risposto A tutte le domande Anche su come sarebbe Andata la visita E Queste sono iniziative Importantissime Perché la prevenzione Deve Deve essere data La possibilità Di una prevenzione Gratuita A chi non se la può permettere Deve essere data La possibilità Di prevenzione A chi non ha i documenti Deve essere data La possibilità Di prevenzione A chi non parla italiano Su questo tema Roberta Hai già domini Tre volte Hai già parlato Di documenti Perché è così importante Questa distinzione Cioè appunto Fare visite Senza chiedere documenti Perché Nelle nostre periferie A volte abbiamo Gli invisibili Degli invisibili Abbiamo chi Ancora Burocraticamente Non è riconosciuto Dallo Stato italiano Non possiamo negare Però la loro esistenza E quindi È nostro dovere Morale Prenderci cura Anche di loro E sono tante Appunto le realtà Che sul territorio Fanno prevenzione Fanno cura Anche a volte Perché avevamo appunto Avete sempre parlato Di l'ILT Abbiamo parlato Io mi ricordo anche Il camion Il pullman di emergence Ho visto più volte È fisso Tutte le settimane Diciamo Quando è che c'è Tutte le settimane C'è in piazza Sì sì Ok perfetto Insomma Sono tante È importante Quindi questa sinergia Tra voi Amministrazione E questo sociale Questo terzo settore Che si dà veramente Tanto da fare E fa tanto Sì Io credo che il municipio Sia veramente La sentinella del territorio Arriva ad una conoscenza Quasi umana A dire proprio Una conoscenza umana Ad personam E quindi il suo ruolo È proprio essere Collettore e cabina di regia Per indirizzare qualcosa Che sia reale Tutti questi lavori Questi progetti Senza una mediatrice Rabofona Sono il nulla Interessante perché appunto Spesso l'amministrazione Si vanta di essere Io conosco tutto Anche il tombino Sotto casa Ma attenzione Il tombino è interessante Ma forse l'umano Un po' di più Mi verrebbe da dire Quindi complimenti Al municipio 7 Che può avere Questa possibilità Appunto di capillarità E di conoscenza umana Di quello che succede Sul suo territorio Ancora una canzone Poi torniamo qui Perché manca poco I nostri saluti Ma voglio appunto Sapere anche Quali altri progetti Ci sono in Così Pronti a partire O magari quelli Che vorresti far partire Che ancora però Insomma ci vuole un po' più di tempo Non è che poi Tutto Perché poi sembra tutto facile Con te Roberta Quindi infatti Cioè la racconti troppo facile Quindi poi sembra Sono diventati capelli bianchi Ah non era biondo Pensavo fossero semplicemente biondi No questo è All you need this love Con i Beatles E siamo quasi in chiusura Ma possiamo Prima di salutarci Sentire l'ultimissima Evento Molto interessante Che state preparando Anzi Trans municipio Un gemellaggio Un gemellaggio Un gemellaggio 7 e 6 Si mettono insieme Per far che cosa? Un municipio 7 e 6 Si mettono insieme Per la giornata Contro la violenza sulle donne L'anticipiamo di tre giorni Il 22 novembre Al Teatro La Creta Ci sarà Valentina Pizzali Se sappiamo Vittima Di violenza contro le donne Molto pesante Anche fisicamente Che però È sopravvissuta E racconta La sua storia Ad una platea Immensa Dei nostri ragazzi E le ragazze Delle scuole superiori E magari anche terza media Capite Capite perché sono importanti i municipi Continua a dirlo Vabbè Comunque Roberta Lamberto Grazie di essere Stato qui con noi Questa mattina Grazie a voi Porta i saluti A tutto il municipio Dalla presidente Agli altri assessori A tutti i consiglieri Municipali E Tieni ci aggiornato Soprattutto La situazione del Marchiondi Perché insomma Noi vogliamo Tenere I fari accesi Su questa situazione Ritornerò Perfetto Ritornerò Come diceva qualcuno E allora Grazie mille A Roberta E adesso Un po' di musica E poi torniamo qua Per i saluti finali Sempre qui In diretta Su Cristian Radio Questo è Good Morning Milano E torniamo appunto Fa pochissimo Per i saluti finali 8 e 54 minuti Di oggi Mercoledì 30 ottobre Siamo arrivati alla fine Di questa puntata Di Good Morning Milano Dopo di noi Se lo sapete già Dai Ambrogio Curti Con senti questa Alle 9.05 Dopo il giornale radio La grande musica Raccontata dalla preparatissima E competentissima voce Di Ambrogio Curti Che va a leggere Le canzoni Ma non solo così Come la potremmo leggere Tutti noi Ascoltandola Interpretandola No no Andando a leggere Tra le righe Andando a leggere Tra gli aneddoti Andando a leggere Tra coloro che hanno creato Quel pezzo di arte Che ci fa ascoltare Ebbene E poi ce lo racconta Approfonditamente In senti questa Alle 9.05 Qui su Cristal Radio E poi c'è un sito internet Lo sapete Si chiama Goodmorning.milano.it Potete trovare Tutto quello Che facciamo qui In diretta Tutti i giorni E lo potete trovare Con gli approfondimenti Con le clip Delle nostre interviste Con le rubriche Insomma Tutto quello che succede Viene riproposto lì E poi anche su Spotify E su Apple Podcast E in questo mercoledì Che sa di giovedì Domani è un giovedì Che saprà di venerdì Comunque siamo qui Dalle 7 alle 9 Le voci che avete sentito Questa mattina Sono quelle di Daniele Gazzoli Di Roberto Lamberto Fabio Ranfi Qui per voi E in regia Ginevra E Beatrice Ciao domani